Siamo da questo momento in diretta nella nostra chiesa cristiana evangelica Assemblea di Dio in Italia di Parma per il culto e vogliamo rivolgerci alla parola di Dio leggendo dal libro del profeta Isaia, capitolo 43, versetto 16. Un testo tra i più conosciuti del libro del profeta Isaia, ripeto, capitolo 43, versetto 16. Dice così. Così parla l'Eterno che aprì una strada nel mare e un sentiero tra le acque potenti che fece uscire carri e cavalli. Un esercito di prodi guerrieri, tutti quanti furono atterrati, non si rialzarono più, furono estinti, spenti come un lucignolo. Non ricordate più le cose passate e non considererete più le cose antiche. Ecco, io sto per fare una cosa nuova, essa sta per germogliare. Non la riconoscete? Sì, io aprirò una strada nel deserto, farò scorrere dei fiumi nella steppa. Le bestie dei campi, gli sciacalli e gli struzzi mi glorificheranno perché avrò dato dell'acqua al deserto, dei fiumi alla steppa per dare da bere al mio popolo, al mio eletto, il popolo che mi sono formato proclamerà le mie lodi. In questo testo il Signore parla della sua opera verso il suo popolo. Se avete notato, nella prima parte, dal versetto 16, si parla di quella che è stata l'opera di Dio per il suo popolo quando lo fece uscire dall'Egitto, fece attraversare in maniera miracolosa il Mar Rosso e poi anche per entrare nella terra promessa fece attraversare il Giordano per l'asciutto. Dio che opera. E poi nella seconda parte si parla di quella che è l'opera di Dio per il suo popolo lì dove il popolo si trovava, in una situazione che da un punto di vista spirituale viene indicata come un deserto, quindi un luogo di dolore, un luogo di sofferenza. Possiamo dire, fratelli e sorelle, che Dio ha fatto per noi cose grandi e noi siamo nella gioia, credo che noi non possiamo elencare quelle che sono state le opere che Dio ha fatto dal momento che lo abbiamo conosciuto ad oggi. Opere straordinarie, perché Dio sempre attraverso il libro del profeta Isaia dice che fa meraviglie, meraviglie su meraviglie. Dio ha operato in maniera meravigliosa. Tutti noi ricordiamo quando eravamo schiavi, da un punto di vista spirituale, del male, del peccato, del nostro orgoglio, delle nostre vedute, forse di vizi e di tante cose che ci tenevano legati e ci impedivano di avere una comunione con Dio e di vivere la nostra fede in Cristo. Ma poi è arrivato il nostro liberatore, Cristo Gesù il Signore. ci ha liberati, ci ha affrancato, perché egli stesso ha pagato il prezzo del riscatto per la nostra redenzione. Ora siamo figli di Dio, ora siamo liberi e possiamo vivere nella libertà dei credenti, dei figli di Dio e avere comunione con il Signore. Dio ha operato in maniera meravigliosa. Gli egiziani qui vengono nel versetto 17 indicati come coloro che sono stati atterrati, coloro che sono stati vinti, coloro che per la grazia di Dio non ci sono più. Ma poi nella seconda parte del testo si parla di quella che è l'opera che Dio compie per i credenti lì dove essi si trovano. Dio opera per te lì dove sei. Possiamo dire che Dio ha operato per noi liberandoci dall'Egitto, dalla schiavitù del peccato, da quella condizione nella quale versavamo ora siamo figli di Dio, ma il fatto che io e voi siamo figli di Dio non ci esime dalle prove, non ci esime dalle difficoltà, non ci esime da situazioni dolorose e difficili che necessitano l'intervento potente di Dio. E allora io e te per realizzare l'opera di Dio non dobbiamo necessariamente cambiare il contesto doloroso e difficile nel quale viviamo. Come dice in un passaggio, Davide ha se avessi delle ali come la colomba me ne volerei via, perché la fuga non è la soluzione, cambiare situazione dolorosa non è la via d'uscita, ma l'opera di Dio lì dove ti trovi è la risposta. E allora vorrei considerare quella che è l'opera di Dio per la tua vita lì dove ti trovi, nel tuo deserto, nella tua prova, nella tua sofferenza. non dire questa mattina Signore liberami da questa situazione dolorosa, ma di Signore dammi la vittoria in questa situazione dolorosa. Poi Lui stabilirà come agire, perché Dio è saggio, non sbaglia mai. Dio sa quello che deve fare per te, sa come lo deve fare, sa quando lo deve fare, e perché Egli lo possa fare è necessario soltanto che tu ti arrenda a Lui, che tu lasci al Signore il pieno controllo di ogni cosa. Com'è l'opera che Dio compie in favore dei Suoi figlioli che confidano in Lui lì in quella situazione dolorosa e difficile? Innanzitutto è un'opera nuova. Ecco, io sto per fare una cosa nuova che sta per germogliare. Non dice io ti metterò in un contesto nuovo, io ti metterò in una famiglia nuova, io ti darò un posto di lavoro nuovo, a volte avviene questo. No, l'opera di Dio è per la tua vita lì dove sei. Non un'altra condizione di vita, ma una condizione di vita nuova lì dove sei. Questo è quello che Dio fa. Questo è quello che Dio compie. L'opera nuova di Dio. Dicevamo prima alla scuola domenicale viviamo nell'era che tutto deve essere gettato, che tutto deve essere cambiato, ciò che è vecchio deve essere sostituito con qualcosa di nuovo. Le cose non si aggiustano più, si sostituiscono. E la cosa triste non è che questo riguarda soltanto gli oggetti nella nostra epoca, riguarda anche i rapporti coniugali, familiari e così via. Non si aggiustano eventuali rapporti logorati, compromessi, incrinati, ma si sostituiscono. Non è questo quello che fa Dio. Dio non vuole sostituire la tua condizione di vita, non vuole migliorare il contesto nel quale tu ti trovi, ma vuole operare nella tua vita perché tu possa vivere al centro della sua volontà, lì dove sei. L'opera nuova di Dio. Io sto per fare una cosa nuova, essa sta per germogliare. Notate, io sto per fare. E Dio non è un'opera di un uomo, non è un'opera di una persona che può risolvere i tuoi problemi, ma è Dio stesso. È l'opera di Dio. Dio opera nella tua vita e per la tua vita in misura di come tu ti arrendi a Lui. di come tu ti fidi di Lui, di come tu lasci agire a Lui. Io e tu non abbiamo in noi tutte le forze e le capacità per uscire da ogni situazione difficili, ma possiamo confidare in colui che può ogni cosa e ci può liberare da ogni situazione. lascia la tua causa nelle mani del Signore. Metti la tua vita, il tuo problema, la tua necessità, perché no, i tuoi desideri, i tuoi progetti, le tue aspirazioni e aspettative nelle mani di colui che sa quello che deve fare. È il Signore che vuole fare in te un'opera nuova, non un contesto nuovo, un'opera nuova nella tua vita. È un'opera come si dice oggi ex novo, una cosa nuova, le cose vecchie sono passate, ecco, tutto è diventato nuovo. Forse nella tua vita spirituale, nella tua vita sentimentale, nella tua vita morale, ci sono soltanto macerie, forse il tuo matrimonio è ridotto a un cumulo di macerie, forse la tua casa, la tua famiglia è tutta diroccata e guardando queste rovine della tua vita, del tuo matrimonio, della tua famiglia, sei così scoraggiato, sei così depresso, sei così demoralizzato, perché puoi dire ma che cosa posso fare davanti a questa situazione così difficile, tu non puoi fare più nulla, ma affidati a colui che può ancora ogni cosa questa mattina, lascia che sia Dio a mettere mano alla tua vita, al tuo matrimonio, alla tua famiglia, perché il Signore questa mattina ti rivolge una promessa, io sto per fare una cosa nuova, alleluia, e poi questa opera meravigliosa del Signore per la nostra vita lì dove noi siamo è un'opera che viene indicata da Dio stesso come qualcosa che germoglia, la natura è di una potenza straordinaria, figuriamoci Dio, che è l'onnipotente ed è sovrannaturale, l'opera di Dio qui viene paragonata a una pianta che germoglia, viene usata il termine appunto germogliare, un'opera potente, a volte rimango meravigliato, perdonatemi l'affermazione molto elementare, molto semplice, quando vedo dell'asfalto e poi vedo delle piccole pianticelle che spuntano dall'asfalto, riescono a rompere l'asfalto e mi domando ma come fanno? Una tale potenza, una tale forza, forse ti trovi in un terreno duro, forse sei stato asfaltato da qualche situazione, da qualche esperienza, ma se sotto quell'asfalto, se sotto quell'esperienza così dolorosa e difficile che ti ha appunto asfaltato, c'è il seme della fede nel Signore, c'è il seme della parola di Dio nel tuo cuore, allora l'opera di Dio germoglierà nella tua vita. Non abbiamo bisogno necessariamente di un terreno fertile per prosperare spiritualmente, ma abbiamo bisogno di un buon seme e dell'acqua come ora vedremo perché la nostra vita possa rinverdire. La Bibbia parla nella benedizione di Giacobbe di un uomo benedetto. Giacobbe parla di uno dei suoi figli come un uomo benedetto da Dio paragonandolo a un albero fruttifero e non parla di Ruben, non parla di Simeone parla di Giuseppe eppure era in un contesto arido in Egitto eppure era in una situazione particolare ma Dio operava per Giuseppe dove Giuseppe si trovava. Mi sono sempre chiesto una cosa leggendo la storia di Giuseppe che a mio avviso è una delle più avvincenti ed incoraggianti della Bibbia perché Giuseppe quando è diventato vice re d'Egitto non è mai più ritornato nel suo paese di origine lo poteva fare almeno per andare a trovare suo padre almeno per andare a prendere suo padre non lo ha fatto lui viveva dove Dio lo aveva posto faceva la volontà dove Dio l'aveva posto non devi scappare da quella cisterna non devi scappare dal carro che ti sta portando in Egitto non devi scappare dalla casa di Potifar non devi scappare dalla prigione deve rimanere dove Dio ti vuole perché Dio opererà dove sei beh ma perché devo scappare ricordiamoci sempre che se noi scappiamo dalla prigione non arriveremo a sederci dove Dio ci vuole Giuseppe è rimasto dove Dio lo voleva perché Dio lo voleva portare sul trono non stiamo parlando di troni terreni e materiali per la nostra vita ma di sederci nei luoghi celesti in Cristo Gesù sapete sorelle e fratelli quando io e voi ci sediamo nei luoghi celesti in Cristo Gesù quando siamo al centro della volontà di Dio e essere al centro della volontà di Dio non sempre da un punto di vista materiale vantaggioso non sempre da un punto di vista terreno è piacevole ma la benedizione di Dio è quella che ci fa stare sereni anche nel contesto più difficile e doloroso l'opera di Dio sarà nella tua vita per la tua vita dove sei Dio ha operato per Paolo e Sila nella prigione a Filippi rimani dove Dio ti ha posto onoralo servilo fai la sua volontà l'opera nuova di Dio e poi si parla di deserto il deserto nella Bibbia ci parla della prova ci parla dell'aridità ci parla della sofferenza ci parla della solitudine ci parla delle privazioni potremmo andare avanti il deserto è un luogo ostile io e voi da un punto di vista umano tante volte ci troviamo in situazioni ostili sul posto di lavoro in famiglie nella società dove incontriamo opposizioni per amore del Signore dove pur facendo la volontà di Dio coloro che non conoscono il Signore non approvano non favoriscono la nostra vita anzi la osteggiano la contrastano e ci perseguitano e ci maltrattano per amore del Signore siamo nel deserto ognuno di noi vive il proprio deserto nessuno dica questa mattina perché proprio a me perché capita a tutti i credenti nessuno escluso se tu non sei nel deserto da un punto di vista umano allora forse c'è qualcosa che non va nella tua vita spirituale perché Gesù dice dovete passare per molte tribolazioni dice la seconda parte del versetto 19 sì io aprirò una strada nel deserto notate ancora una volta il Signore parla in prima persona io come dice io sto per fare una cosa nuova io aprirò una strada nel deserto non devi chiedere che qualcuno ti apra una strada nel deserto non devi provare ad aprirti una strada nel deserto non devi cercare scorciatoie umane devi aspettare che sia il Signore ad aprirti la strada nel deserto perché se tu provi ad aprirti una strada nel deserto ti smarrirai non riuscirai ad andare avanti sarai disorientato ti troverai nell'aridità lascia che sia il Signore che vada davanti a te che apra per te una strada che appiani per te il sentiero perché Gesù è l'unico che conosce il cammino verso il cielo dice la parola di Dio noi dobbiamo seguire le orme di Cristo Gesù il Signore Dio aprirà una strada e tu potrai percorrere quella strada nel deserto negli Stati Uniti c'è una strada conosciutissima famosissima che attraversa tutto il deserto chi c'è stato magari lo sa fratelli e sorelle non dobbiamo provare ad addentrarci nel deserto ci smarriremo ci può sembrare magari più attraente più facile a volte pensiamo di essere una sorta di fuoristrada che dobbiamo provare l'avventura nel deserto dobbiamo provare sapete c'è una corsa la Parigi Dakar famosissima dove ogni volta o quasi ogni volta ci sono dei morti dei corridori muoiono in questa corsa così famosa e particolare eppure conoscono quella strada quell'ambiente però a volte una svista una leggerezza una eccessiva padronanza di se stessi un'eccessiva sicurezza ecco che arriva l'incidente la morte la tragedia e questo è grave quando avviene da un punto di vista materiale ma è ancora più grave quando avviene da un punto di vista spirituale per un credente che nel deserto prova a muoversi da solo prova ad agire con le proprie forze prova a seguire gli altri segui Gesù aspetta che sia Gesù ad aprirti una strada ma perché non apre la strada perché non è il tempo ma perché per lui sì e perché per me no perché Dio ha un piano per ciascuno di noi lascia che sia Dio a stabilire quello che deve fare per te nel deserto dove ti trovi lui l'aprirà la strada non ti dice come non ti dice quando ma ti dice di rimanere vicino a lui in modo che lui quando vada avanti a te tu possa incamminarti possa seguirlo perché il Signore aprirà man mano che tu lo seguirai questa strada nel deserto e il deserto con Gesù è qualcosa di meraviglioso e di glorioso chissà mercoledì sera faremo qualche considerazione al riguardo e infine l'opera di Dio nel deserto dove ti trovi per far scorrere l'acqua io sto per fare una cosa nuova essa sta per germogliare non la riconoscerete sì io aprirò una strada nel deserto farò scorrere dei fiumi nella steppa farò scorrere dei fiumi nella steppa mi piace questa espressione intanto chi è che fa scorrere dei fiumi colui che è l'acqua è l'acqua viva scorrere vuol dire che c'è un punto di partenza chiamata fonte è un punto d'arrivo è un punto di passaggio c'è il punto di partenza e c'è il passaggio sapete dove passa il fiume nel deserto soltanto per quella via aperta e quella via è Gesù è la via maestra è lì che noi dobbiamo stare avete notato una cosa nell'antichità noi pensiamo a volte che gli antichi fossero tutte persone così rozze poco intelligenti capaci beh per esempio guardiamo la costruzione delle piramidi e tanto incapaci non erano nell'antichità ma se ci fate caso nell'antichità le città le costruivano dove c'erano i corsi d'acqua erano lì che costruivano le città perché l'acqua era vita l'acqua era vita l'acqua è vita fratelli e sorelle rimaniamo vicino a Gesù l'acqua viva rimaniamo nella parola di Dio l'acqua viva lasciamo che lo spirito santo dimori nel nostro cuore l'acqua viva non è un problema essere nel deserto quando noi siamo con l'acqua dove c'è l'acqua non è un problema nel deserto se lì scorrono i fiumi partono dal Signore e arrivano fino a noi la grazia di Dio parte dal cuore di Gesù non a caso c'è una spiegazione medica ovviamente quando il costato di Gesù venne trafitto ne uscì acqua e sangue c'è una spiegazione medica acqua e sangue quel sangue che purifica da ogni peccato quell'acqua che lava che disseta quell'acqua pura quell'acqua buona non a caso Dio usa un termine per indicare questo corso d'acqua fiume una cosa è un ruscello un corso d'acqua una cosa è un canale un'altra cosa è un fiume la caratteristica del fiume rispetto rispetto a un ruscello rispetto anche a un canale a un qualsiasi corso d'acqua è definito tale cioè fiume perché ha sempre acqua un fiume è tale perché ha sempre acqua non è come ripeto un rigagnolo d'acqua come altri termini usati per indicare un corso d'acqua qualsiasi con una portata d'acqua piccola scorreranno dei fiumi nella steppa dei fiumi non uno più fiumi e ci sono l'ho detto poco fa tre fiumi tre fiumi gesù la parola e lo spirito santo signore non serve che io e tu andiamo altrove ma vogliamo dire signore fa scorrere questi fiumi dio ti raggiunge lì dove sei sapete cosa fanno alcuni spero di riuscire a spiegarmi sono lì dove dio li vuole però siccome è un ambiente ostile un ambiente difficile allora cambiano e vanno dove secondo loro possono stare meglio e dopo che si sono spostati metaforicamente parlando lì dove erano che erano al centro della volontà di dio scorre il fiume della grazia scorre il fiume della benedizione scorre il fiume della risposta di dio e loro non realizzano niente perché si sono spostati altrove dove secondo loro c'era la benedizione di dio e si ritrovano in un luogo arido rimani al centro della volontà di dio e lì il fiume scorrerà non hai bisogno di un luogo migliore di un contesto favorevole ma di trovarti al centro della volontà di dio perché è lì che scenderà la benedizione è lì che arriveranno i fiumi notate scorrono dove scorre dei fiumi nella steppa i fiumi che scorrono nella steppa e quella steppa diventa un giardino fiorito ha detto una cosa l'ultima volta che è stato qui il fratello Alessandro Cravana che mi ha colpito molto se vi ricordate lui ha apprezzato elogiato la comunità di Parma e ha detto che la comunità di Parma non sia un'isola felice ma che sia un giardino rigoglioso noi non vogliamo essere come credenti come comunità come famiglie un'isola felice vogliamo essere un giardino dove ci allarghiamo e altri possano beneficiare dell'opera di Dio e altri possano beneficiare dei beni di Dio e altri possano beneficiare di questi frutti meravigliosi che la grazia di Dio ci fa gustare e che vogliamo condividere agli altri la tua vita non sia benedetta perché tu possa dire io sono benedetto ma sia benedetta perché tu possa dire io voglio glorificare Dio e voglio essere di benedizione per gli altri la vera benedizione io e voi la realizziamo quando Gesù è glorificato e siamo strumenti nelle mani di Dio per il bene degli altri Dio opera dove ti trovi non serve andare altrove è necessaria l'opera di Dio dove sei vogliamo alzarci vogliamo rivolgerci al Signore cari in Cristo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti